Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo dissero i discepoli a Gesù Ecco, ora parli apertamente e non più in modo velato. Ora sappiamo che tu sai tutto e non hai bisogno che alcuno ti interrochi. Per questo crediamo che sei uscito da Dio. Rispose loro Gesù Adesso credete? Ecco, viene l'ora, anzi, è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto suo e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio, io ho vinto il mondo. E' più di avere pazienza e portare sulle spalle, portare il peso delle tribolazioni. E anche la vita del cristiano ha dei momenti così. Ma Gesù ci dice, abbiate coraggio in quel momento. Io ho vinto, anche voi sarei vincitori. Questa prima parola ci illumina per andare nei momenti più difficili della vita, quei momenti che ci fanno soffrire.